salve ragazzi e benvenuti nel canale di astondor sigla e vabbè lo so che cosa state pensando che abbia abbandonato completamente il canale con i miei unici quattro iscritti che ho al canale ovviamente no ma sono altamente incasinato di lavoro e quindi devo ovviamente organizzare tutto e vi porterò dei contenuti tranquilli non ho abbandonato completamente il canale youtube ovviamente ricordo a tutti magari quelli che mi conoscono maglietta di iron maiden per tutti quelli che mi conoscono ero rocksteel ovviamente facevo recensioni di musica rock in generale canzoni della cina giappone di tutto il mondo anche della russia mi era capitato pure sottotiro qualche band che ormai non mi ricordo più perché sono passati già molti anni e quindi non mi ricordo più sinceramente che tipo di band però comunque cosa passata molto passata perché avevo anche creato una pagina facebook e non funzionava assolutamente nulla avevo fatto i miei primi 68 iscritti circa non mi ricordo comunque erano 68 a una settantina comunque non ci arrivavano a una settantina di iscritti e ho abbandonato il progetto ovviamente la mia idea perché non non sapendo che via prendere perché poi ovviamente mancava del tempo quindi bisogna avere anche del tempo per organizzare il video crearlo fare giusti tagli caricarlo ovviamente questo video non farò nulla del genere con proprio con questo proprio determinato video anche se si vede malissimo lo so ma purtroppo sono sono queste al momento c'ho questa videocamera che purtroppo lo so è di bassa risoluzione si vedrà un po da schifo purtroppo perdonatevi tantissimo ho rinominato il mio profilo astondor così a livello perché caricavo qualche gioco ovviamente giocavo un po di più su fortnite quindi caricavo quei giorni quei giochi su di fortnite ovviamente mi chiamo con quel nome anche se ultimamente l'ho molto accantonato il gioco non ci gioco tanto ma spesso così ma un'oretta ma nemmeno ci arrivo un'oretta quindi che dirvi ragazzi io sto cercando il modo di andare a creare un po un contenuto un po diverso non ho nemmeno l'idea se avete qualche idea lasciatemela sotto nei commenti comunque e poi piano piano vediamo un po di creare di nuovo una pagina un qualcosa datemi qualche spunto magari non lo so volete rivedere di nuovo rocksteel in cui io vado a fare delle video reaction si chiamano quindi video reazioni su musiche che sinceramente io non conosco o mai ascoltate perché ovviamente sono un po più un fan accanito di Iron Man di ACDC comunque un po vecchio Stambo Rock qualcosa di vanescenso pure l'ascolto comunque ma ci sono molte altre band di tutto il mondo che non conoscono non so nemmeno non so nemmeno l'esistenza ecco e quindi non so magari volete rivedere il vecchio rocksteel di una volta o vedere nuovi contenuti comunque vi lascio a voi ovviamente ampia scelta di un po di che cosa andrà a trattare perché avendo anche avendo anche molta conoscenza sul campo informatico quindi sul campo anche telefonia magari posso caricare qualche cosa che so qualche esperimento che faccio con qualche pc vecchio antico non lo so fate voi fate voi vi lascio questi tre diciamo queste tre opzioni vediamo le più votate magari pubblicherò più in là un video e vediamo un po che cosa ne uscirà fuori ovviamente è soltanto a scopo di passarci il tempo così amichevolmente tra me e voi quelli che magari si aggiungeranno al mio canale youtube non è nemmeno per così ma lo so affatto tanto per tanto per conosci anche nuova gente perché si conosce anche nuova gente così eh eppure perché per passione magari per avere un po di dialogo di dialogo molto diretto perché sono anche un po abbastanza diciamo timidino e mi blocco anche nel modo di parlare non è tanto perfetto e poi è tutta una serie di cose che ovviamente che può è bello è bello youtube è una piattaforma che ti mette davanti a molte opinioni di persone di cose però qua soltanto amichevole quindi vi raccomando è nulla è nulla che aggiungervi ragazzi io vi mando un caroso saluto perché ovviamente mi scuso pure per la lunghissima assenza che sono passati ben tre anni o non so pochi tre anni però sono passati ben tre anni e è nulla io ovviamente vi auguro sempre e comunque avere una vita felice tranquilla bellissima e e sto video sto portando a lungo vi saluto ciao ciao ci rivediamo ovviamente e datemi il tempo di mettere in ordine un po' un po' le mie idee perché non so veramente che tipi di contenuti andare a mettere perché poi facevo sezioni di gioco molto lunghissime e comunque con questo video ho chiuso grazie per aver visto il video fino a quasi a nove minuti e ciao ciao